Siamo con Matteo Avogadro, Rezacca, Man of the Match, della sfida vinta 3 a 2 contro Manalai, prima vittoria, doppietta iniziale che ha spaccato i due la partita, siamo a 18 anni, mi arrabbiato a gioventù. Sì, diciamo che mi diverto anche quindi bene, sono contenti più per la squadra che per me che è sempre meglio, importantissima prima vittoria quindi andiamo avanti così e bene. Ci volevo di abbandonare quanto a zero, eravate stufi di stare in fondo. Sì, zero punti sono brutti, adesso andiamo avanti così. Allora ti do il premio innanzitutto, comincia a far vedere bene il premio e poi ti do anche il buolo Man of the Match di Bet Advisor, nostro partner, complimenti, oggi ho fatto doppiata in campo e doppiata anche fuori.